Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una legge, prima firmataria Anna Paris del PD, che vieta ai minori l'uso delle macchine da gioco, che rilasciano punti sotto forma di ticket, che possono essere accumulati e utilizzati per acquistare premi all'interno di sale giochi e centri commerciali, l'obiettivo è contrastare la ludopatia e prevenire lo sviluppo di questa dipendenza, soprattutto tra i giovani. L'atto prevede anche sanzioni fino a 500 euro per chi viola il divieto e la redazione di un regolamento per l'attuazione delle norme. È un divieto, è un divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi ticket, tagliandi, che troviamo nelle sale giochi per i minori. Per i minori perché ci troviamo di fronte a ragazzi deboli, che più giocano, si crea un meccanismo gioco-cratificazione, un meccanismo subdolo, subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende, ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce, diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione perché mi sono avvicinata a questo testo con alcuni, con grandi dubbi, non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo perché è passato in Commissione Sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Riteniamo con questa normativa di fare un regalo a tante mamme e soprattutto ai nostri figlioli, che sono questi ragazzi tanto deboli, che purtroppo non abbiamo il tempo di controllare durante le 24 ore i loro pomeriggi, possono raggiungere queste sale giochi, e purtroppo non essere controllati. Speriamo poi che ci siano i controlli. Noi proponiamo questa legge, a questo punto ci sarà, ci sarà un regolamento che definirà più nello specifico gli aspetti più tecnici, c'è anche ovviamente la sanzione e poi ci dovranno essere ovviamente i controlli. Noi più di così non possiamo fare. Siamo stati tutti favorevoli, quindi all'unanimità, siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e come ho detto in aula potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria perché se si fa un buon uso di questa legge, si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare e di non diventarne schiavi perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati e questi ragazzi poi crescono, quindi potrebbero essere i futuri uomini che in qualche modo evitano di rimanere con lo stipendio lasciato nei vari giochetti perché è anche il gratte e vinci che il nostro Stato propone. Quando ti fa uscire un numeretto che è vicino a quello che te hai, pensi di essere stato solo sfortunato, in realtà sei rimasto invischiato nella loro trappole. Una legge importante inizia il proprio percorso legislativo quando io ero presidente della Commissione Sanità, quindi un test al quale sono particolarmente affezionato, ho fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione, soprattutto rispetto ai minori e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata dalla scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione, serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni, quindi una legge che si struttura con il passare del tempo alla quale rimango particolarmente legato. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie, cioè il ticket redemption che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccoli valore ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani, ai ragazzi, è diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, e il nostro esponente regionale, oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze, è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo, ad esempio, sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali, che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Insomma, la lotta alla ludopatia è qualcosa che deve essere fatta ogni giorno e soprattutto ha bisogno di controlli, controlli e sanzioni esemplari per chi mette a repentaglio il sistema sociale e anche i nostri giovani con questi che sono né più né meno, che non innocuano i giochi, ma vere e proprie induzioni alla dipendenza. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Italia Viva, primo firmatario Stefano Scaramelli, per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico, ovvero il diritto alla parità di trattamento e non discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche. La mozione impegna la Giunta regionale in coerenza con gli indirizzi già espressi con la mozione numero 970 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 settembre 2022 ad attivarsi nuovamente nei confronti del Parlamento italiano affinché si giunga quanto più cedermente possibile all'approvazione di una normativa nazionale per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche e apporre in essere contestualmente l'adozione di provvedimenti per sostenere il riconoscimento del diritto delle persone che sono state affette da malattie oncologiche ad avere condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché nelle procedure di adozione. Chiede un impegno fattivo della regione toscana nei confronti del governo e del Parlamento perché la questione dell'oblio oncologico venga approvata anche a livello nazionale è un'opportunità per consentire alle persone che hanno sconfitto il tumore nella propria vita di avere un accesso libero a molti servizi, in particolar modo bancari, assicurativi, pensiamo all'adozione di un figlio, cioè il fatto di aver sconfitto un tumore deve riportare, la scienza lo dimostra, all'anno zero fondamentalmente, rigenerare una persona non soltanto perché vince una sfida e molte volte poi si trova limitata nell'accesso di alcune funzioni. La legge deve liberare le persone che hanno sconfitto il tumore da questi vincoli, da questi cavilli, penso la questione più importante sia quella delle adozioni, ma non solo, anche l'accesso a un mutuo, così come a una prestazione assicurativa, è una persona che ha superato una malattia e come tale tornano a essere ovviamente sane, e come tale devono avere diritto, come le altre, a poter accedere a dei servizi che sono di natura ovviamente civile e quindi serve un impianto normativo nazionale, una battaglia che a livello nazionale sta portando avanti Maria Elena Boschi e noi stiamo sostenendo come Regione Toscana. Sì, diciamo che questa mozione che è stata emendata, proposta stavolta da Scaramelli, è una mozione che viene ripresentata a distanza di quasi un anno, perché era stata presentata l'anno scorso dal Partito Democratico, votata da tutti all'unanimità, su un tema molto delicato, quindi per proporre una legge in Parlamento che ancora non c'è e che darebbe il diritto dell'oblio alle persone malate oncologici. Questo è un tema sensibile perché? Perché i malati oncologici ancora oggi hanno difficoltà nell'accensione dei mutui, nell'assicurazione, nelle adozioni, in quella che è la vita reale di tutti i giorni e quindi anche nella vita lavorativa. Riteniamo che questa legge sia una legge di dignità per queste persone che una volta guarite hanno il diritto di riscattarsi e di vivere una vita normale come tutte le persone che sono guarite. L'avevamo presentata allo scorso Governo e allo scorso Parlamento, l'abbiamo riproposta anche adesso affinché si smuova qualcosa, perché il tema è davvero un grande tema che tocca a tante e tantissime persone. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, la mozione è presentata da Vincenzo Ceccarelli del PD sulla necessità di prevedere adeguate risorse nazionali per il sostegno all'affitto, all'amorosità incolpevole e alle ristrutturazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà. Vale a dire il Fondo per il contributo affitti, che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il Fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. Sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del Governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del Governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. Abbiamo anche richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio, così come era avvenuto in passato, di mettere risorse dedicate, integrative, del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi di risulta. Allora, intanto noi ci siamo mossi, soprattutto con i nostri parlamentari, per quanto riguarda l'amorosità, l'affitto e il sostegno. Assolutamente sì, è un motivo nostro di dare il contributo ai nostri cittadini che purtroppo in questo momento il fondo non è stato sovvenzionato, però il fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare e speriamo appunto che si arrivi presto a una soluzione. No, per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati i 93 milioni soltanto per la Toscana, dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento, con una spesa per ogni singolo appartamento di 110.000 euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica, però con 110.000 euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi, ma al di là di questo abbiamo letto con piacere la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni per ristrutturare 500 appartamenti, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16.000 euro, non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16.000 euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui, ecco, mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta. E non ultimo, mi sono permesso, tempo addietro, proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso, personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare non alla ristrutturazione, ma alla realizzazione di nuove casse popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante perché in questo momento le difficoltà ci sono, tante famiglie stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite. Per cui credo che dobbiamo assolutamente intervenire in questo modo. Spero che il governo anche in questa circostanza ci possa dare un aiuto. Però, ecco, le due emozioni andavano nella direzione sempre di andare a chiedere al governo quando invece ci sono anche delle responsabilità della regione e dei vari comuni. Ci sono due soluzioni, una potrebbe essere, non soluzioni, ma sicuramente che possono aiutare. Uno è l'allenazione di chi occupa le case popolari e avrebbe l'opportunità di poter comprarsela eventualmente e riscattare eventualmente la casa. Credo che quando uno ci vive da più di 20 anni o 30 anni si sente ormai casa sua e l'altra cosa che secondo me la regione ha la necessità di dover fare è quella di riorganizzare e di ottimizzare soprattutto le lode perché come ho detto nell'intervento in aula sono più i componenti delle lode fra poco delle persone che hanno bisogno degli appartamenti per cui sicuramente è un impegno che noi dobbiamo prenderci e dobbiamo risolvere. Sul tema del contributo affitti è un tema di grande attualità e il Partito Democratico, così come sta accadendo in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, ha presentato la mozione Cina per chiedere al governo nazionale di rifinanziare il contributo affitti e noi li abbiamo sfidati, su questo li abbiamo sfidati chiedendo quali fossero le loro intenzioni. Se fossero quelle di sostenere la campagna elettorale che Ellis Line sta facendo in tutta Italia sul contributo affitti o se seriamente volevano fare una richiesta al governo nazionale di finanziare questo fondo. Abbiamo presentato degli emendamenti in sostanza abbiamo chiesto uno di riconoscere quello che il governo ha fatto perché è vero che il tema del contributo affitti è importante va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia di rifinanziare il contributo affitti ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale che il governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà la spesa alimentare, il bonus bollette quindi di riconoscere quello da una parte e dall'altra, siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo come si dice, quando gli dai un dito prendono il braccio e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitti hanno pensato bene di chiedere al governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'inizia residenziale pubblico toscano che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte noi abbiamo chiesto giustamente che il governo finanziasse anche questo tipo di intervento ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la regione toscana perché la regione toscana che è la proprietaria di quel bene che è soprappresentato alle case popolari di tutta la regione non può pensare che per colpa della loro cattiva manutenzione oggi le case popolari non possono essere assegnate arriva il governo Meloni e finanzia tutto il governo Meloni spero riesca a finanziare una parte di questi interventi ma una parte li deve finanziare anche il Partito Democratico la regione toscana e la fattispecie questo è andato a buon fine gli emendamenti sono stati accettati da parte del Partito Democratico e per fortuna l'Aula ha votato in maniera unanime questa richiesta perché tutte le forze politiche oggi concordano nel chiedere al governo nazionale di rifinanziare il fondo per il contributo affitti Grazie a tutti